Dopo tanta scienza adesso vi faccio rilassare perché vi racconto storie facili. L'innovazione è una parola grossa che adesso gira molto, come dire tanto industria 4.0. Che cos'è l'industria 4.0? Non fatevelo dire perché dicono un sacco di cose che dicono niente. 4.0 è la quarta rivoluzione industriale, come sapete, ma che cosa comporta? Nessuno può saperlo. La prima ha portato tecnologie e sconvolgimenti sociali, la seconda idem, la terza l'abbiamo vista, la quarta è cominciata vent'anni fa, qui arriva un po' in ritardo in Italia, ma comunque non si sa che cosa porta. Sicuramente la rivoluzione industriale è dovuta al digitale, la quarta rivoluzione, ma il resto che cosa capiterà? Andando a studiare un po', si è visto che specialmente negli Stati Uniti e in Inghilterra, e da un po' di anni, dove lì la 4 è già partita vent'anni fa, la 4 porta anche una novità. Gli artigiani e la manifattura. La manifattura è la roba nostra, ma loro, l'Inghilterra l'aveva smantellata e gli Stati Uniti l'avevano quasi mai avuta. C'è una promozione di nuovo alla manifattura. Manifattura. Si è scoperto che da 5 anni negli Stati Uniti l'economia al 50% è fatta dagli artigiani, non più dall'industria, dagli artigiani. Grazie al digitale, che è la particolare, unica, marmellata, con quel gusto particolare fatta nel Kentucky, la vedono in tutto il mondo, grazie all'artigiano digitale. Ecco allora la rivalutazione dell'artigiano. Cos'è l'innovazione? Per me innovazione è far lavorare di nuovo gli artigiani, con cose però che non fanno le macchine, perché le macchine le fanno prima. Innovazione è far cose che noi sapevamo fare e non sappiamo più fare, è già un'innovazione. E allora sono andato a vedere storie indietro e ho cominciato a vedere che c'erano delle cose antiche che possono essere nuove, cioè ritorniamo indietro. E quindi dalle tecniche antiche mi sono saltati fuori copiando, perché non c'ero per esempio nell'anno 1000, ma copiando ho cominciato a vedere i kirghisa. Questi erano già 1500, non c'erano neanche lì. I kirghisa c'erano dei pastori, il kirghisa è vicino alla Cina, non è grande, e sono ancora abbastanza nomidi anche oggi i pastori. I capi famiglia avevano il mantello di montone, però per non fare un po' i dendi, facevano il disegnino tagliando il pelo con un certo motivo. E quindi avevano il montone ma mancava zone di pelo. Santo Dio, ma la lana ha un pelo bellissimo anche i tessuti di lana. E qual è il tessuto più bello di lana? Questo lo dico a tutti gli studenti, perché gli altri lo sapranno. È lo zibelin. Lo zibelin, perché ripete, la pelle dello zibelin, cioè pelino ondulato, è la quintessenza del laniere, perché deve studiare l'impasto giusto, la torsione giusta, l'armatura giusta, il finissaggio giusto, i piacchi di follatura, il piacca di garzatura, cose che abbiamo un po' dimenticate. E il zibelin è questo qua. Anziché alla pelle del montone, ho detto, disegniamo lo zibelin. È una novità. Come? Con le forbici. Lo fanno ancora oggi i tappeti in Cina, che mettono in rilievo il tappeto con i fiori, mettono in rilievo il fiore, tagliando lateralmente. Possiamo fare queste cose. Allora abbiamo, questo è un capotto di quest'anno in zibelin, di inverno 17-18. Lo disegniamo con il laser. Il laser è un raggio particolare dove la forza, la luce, si concentra, a diversità delle lampade che vanno da tutte le direzioni, in un punto unico. Quindi si riesce a mirare il punto che vogliamo. Ha un'intensità tale che riesce a bruciare il pelo, se si vuole anche a bucare il tessuto. Si regola con dei particolari software e quindi possiamo, anziché tagliare, bruciare il pelo. Ora, quello zibelin, che è una superficie molto lucida, se noi bruciamo il pelo in certi punti non sarà più lucido, lì sarà opaco. Questo è il laser, le priorità del laser. Questo è quello che può fare un laser, addirittura può anche cambiare il colore in quei punti lì. Ma noi abbiamo fatto uno zibelin nero e l'abbiamo disegnato con piccoli pontini. Questo è una cosa da uomo specialmente, lo zibelin, come avete visto prima a cammello, che qualche stilista che l'ha già visto è diventato matto. Per questo campioncino che è in dimensioni, sono qua, questi campioni, se poi qualcuno li vuole vedere, anche quelli che farò vedere dopo li ho qua. Fatti tutti da associazione biella chimici. E questa è la prova numero uno. Poi c'è la prova numero due. Da bravi tintori. Bravo, grazie. Anche qui copiamo, copiamo da Plinio il Vecchio, nato a Como, Matteo, anche tu non c'eri. Nel 23. Nel 77 pubblica Historia Humanitatis, tra tante cose, è lì che è stupito, perché vede gli egiziani tingere in una maniera molto strana, in due forme. Uno, che non c'entra con questo, ma ve lo dico lo stesso, che vede gli egiziani prendere un pezzo di stoffa, di panno, di lana. Vede che mette su questo pezzo greggio dei prodotti A, B, C, però rimane sempre bianco. Prende sto pezzo e vede che lo mettono dentro nel secchiello con dentro il blu. Dopo la tintura viene fuori il panno blu, ma quelle macchie di prima invisibili è una rossa, una verde e una gialla. Come è possibile? Sappiamo benissimo, è questione di bordenti, ma non è il nostro caso. Plinio dice un'altra cosa. Ha visto addirittura tirar fuori, fare un disegno prima con un prodotto, e poi tirar fuori, venire fuori il disegno con un altro colore. Quindi anche noi abbiamo stampato, stamperia di Lipomo e qui Matteo Brenna, in collaborazione come preparazione tintura e finissaggio con la tintoria finissaggio 2000, abbiamo fatto delle prove. Possiamo fare la tintura differenziata, più o meno differenziata a seconda della quantità di prodotto che diamo, e otteniamo diversi effetti e disegni che si vuole. Queste cose però non si riescono a fare col digitale, per due motivi. Uno perché il prodotto è inutile metterlo nelle tastine che sono piene di colorante per stampa. Secondo perché si ha bisogno di spatolare molto per fare una buona penetrazione. Poi è un monocolore, quindi è inutile farlo col digitale. Questo è su panno follato. Questo è su della gabarding, cioè molto più battuta e quindi più difficile anche da penetrare. Prova tre coroè. Prova tre. Qui andiamo nella follatura. Sappiamo che la lana è l'unica fibra che permette di ottenere i panni follati, cioè di filtrare. E le prossime prove è tutto su questa proprietà meravigliosa e unica della lana. Abbiamo stampato un cardato con monocolore, copiando anche questo da quel che facevano i romani. I romani erano pompei, non so se si chiamano romani anche quei che erano pompei per il tempo dell'eruzione del Vesuvio, dove c'era un sacco di officine del laniere e c'erano anche le follature. Lì hanno follato anche dopo aver stampato un monocolore, per cui si spagliava tutto e veniva fuori una roba ti vedo o non ti vedo, nebbiato, fuscato, eccetera. E questo, dopo follatura, è venuto fuori questo disegno non nitido. Prendendo la parte superiore di questo pezzo di stoffa, qualcuno mi ha detto ma questa è una flanella più unica che rara, abbiamo mai visto flanelle con questa grana qui di fondo? E allora è stata fatta la flanella di Pompei. Con la stampa abbiamo tutti i colori che si vuole, la flanella di Pompei, monocolore e filtri. E anche questo a qualcuno piace. Andiamo avanti con la follatura. Sempre in collaborazione, stamperia e tintoria 2000, e stamperia di Lipomo, abbiamo, prima si parlava di antinfeltribilità, ok, noi abbiamo stampato un prodotto, con un disegno, un prodotto per non far feltrare in quel punto la lana. Quindi abbiamo infiltrato a disegno, qui ti feltro, qui ti follo, qui no. Ed è venuto fuori delle cose abbastanza interessanti. Quindi la feltratura a disegno, follo dove voglio. Non so se si vede, la parte più bianca è feltrata, è un pezzo bianco non tinto, la parte meno bianca non è feltrata. Qui è leggerissima feltratura, 5 minuti, sul tessuto si vede meglio che sull'immagine, e il po' a bianco non è feltrato, mentre il resto ha una leggera feltratura. Qui si vede un po' di più, questo è un tessuto a maglia, dove si vede il rosone non feltrato. Ma la cosa ancora più interessante è saltato fuori sul tessuto a maglia, dove abbiamo stampato delle righe. Allora, c'è una riga che feltra, l'altra no. Quella che feltra si restringe, mentre l'altra no. E dove non si restringe fa le borse. E hanno detto, avete inventato il jersey scherzaker, che non si può farlo naturalmente. Questo è orizzontale, si può fare anche verticale, evidentemente. È lo stesso, io ho girato solo le immagini. Questa qui è la più bella e la più nuova di tutte, è la prova numero 5. Cos'è il Feultro Tauman? I Tauman sono una tribù del 1002, nomade mongolio, li facevano parte dell'esercito di Gengis Khan. e avevano degli indumenti che si decoravano loro di lana e quindi prendevano un loro vecchio panno, ci mettevano su la lana delle loro pecore, lana molto ruvida, tinta in qualche colore, tutta sfilacciata, cardata, diciamo, per fare un materassino lì sotto. e sopra ci mettevano un motivo, un pezzo di lana gialla, semicurva, facevano la luna. Poi un altro pezzo verde, potevano fare la foglia, dei pezzi così sparsi. Era un pezzo quindi di circa un metro, per un metro, cose del genere. bagnavano il tutto, non vi dico con cosa, ma c'era bisogno di ammoniaca. Pecugnano Olet, diceva Vespasiano, ok. E d'altra parte era importante. arrotolavano quindi il tutto, esternamente mettevano la pelle dello yakht, che avete visto stamattina, e questo salamotto così ben legato, lo legavano alla sella del cavallo, che facevano girare per tutto pomeriggio nel cortile, e filtrava. e veniva fuori questo feltro. E noi abbiamo fatto altrettanto, abbiamo provato a fare il feltro traumano. Ho messo sopra, sul fondo nero, ho messo sopra questi pezzi qua. Questa collaborazione con la tinta lana, che è andato via, Massimo Balducci, sì che mi ha aiutato a fare queste cose, finissaggio del Osella, Giovanni Icella, Giovanni Icella, e abbiamo fatto queste cose. Questo è un disegno qualsiasi che è venuto così. Il rovescio evidentemente è un feltro nero. Sono disegni non riproducibili esattamente, perché è tutto fatto a mano. Ecco l'artigiano, di nuovo, che fa questi pezzi a mano, non ci sarà mai un pezzo uguale all'altro, la produzione non sarà mai industriale, diventa una cosa di una preziosità unica, sempre per l'artigiano che vende nel mondo. Evidentemente si può fare disegno davanti e dietro. Qui abbiamo fatto delle macchie sul diritto, o sul rovescio, dipende da cosa si vuole girare, e dall'altra parte invece è questa forma di feltro qua. Ma siamo andati ancora oltre. Abbiamo provato a fare il feltro accoppiandolo con tessuto di seta, senza prodotti chimici, che sia chiaro. Cioè, c'è solamente un po' di sapone per feltrare, sapone di Marsiglia. Su questo voal di seta stampato abbiamo feltrato un pezzo di beige cammello. con la feltratura. Anche la seta si è mossa un momentino ed ha preso un look di superficie molto caratteristico, che non è crespo, non è strobicciato, è tutto. È diventato molto brutto e quindi molto bello. Su un pezzo di pua, invece, abbiamo anche qui messo un pezzo di feltro dietro col disegno ed è venuto anche qui un pezzo che sta piacendo molto. Questi, come dico, sono disegni indicativi fatti da noi. Chi è bravo a creare farà dei disegni sicuramente migliori. Ok. Queste per noi sono innovazioni. Come ultima innovazione che mettiamo dentro, questa aggiunta così, ieri, è la tintura che facevano gli indonesiani ICAT. Lo si fa ancora in Messico che fanno i rebosos, sono degli salli i rebosos. Sui talai a cintura, quindi un metro e mezzo o due di lunghezza. a Morelos, è stato il Morelosur, San Maria Potosi, a nord della città del Messico, fanno ancora queste cose dove i fili di seta di catena, come dico, lunghi due metri, vengono stretti con dei cordini e qui bisogna fare la macchina per legare i cordini a distanza, supponiamo, di due centimetri legati, due centimetri no. si può fare qualsiasi distanza. Tinto in nero dove è legato non prende evidentemente colore, però per capillarità, come una vecchia carta assorbente, un pochino sfuma e fa quei graffi e diventa l'effetto ICAT. ICAT. Normalmente lo usano per i fili di catena, si può fare anche con i fili di trama, quindi se lo fanno i fili di catena la trama è in tinta unita evidentemente e c'è l'effetto CINE. Evidentemente dove è rimasto bianco se si vuole si può tingere in un altro colore poi con un'altra tintura successiva, è importante far prima lo scuro e poi sul nero si può fare un altro colore. Questo è un effetto di tessuto e anche questo se qualcuno lo vuole vedere ho un pezzo di lana con questo effetto e questa è una tintura sempre ICAT fatta con colori diversi. Io vi ho detto tutto. grazie a tutti. Grazie a tutti